Una violenta grandinata con chicchi grossi come ciliegie si è abbattuta sulla città di Arezzo intorno alle 16. Lo scontro tra correnti di aria fredda e aria calda, le temperature di questi giorni sono ben oltre le medie stagionali, ha provocato un violento rovescio temporalesco. La giornata di oggi si era aperta con grossi annuvolamenti, poi nel primo pomeriggio grandine e acqua, ma solo in alcune zone della città. I chicchi hanno ricoperto strade e giardini. Già ieri il maltempo aveva interessato l'Alto Casentino, come si vede da questo video, arrivato da un nostro telespettatore. Qui siamo tra Bibbiena e Chiusi della Verna, un evidente downbrust secondo gli esperti. Sarà un fine settimana con tempo instabile, le temperature nella giornata di domenica subiranno un netto calo che non sarà altro che un ritorno alle condizioni normali. Grazie.